Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video Siamo sul giacco E ho visto che c'è il mio override di mici Mici viola Non lo so, sembra carino Io sto facendo il 30 perché Sto facendo il 30 perché Sto facendo il 30 come prova Vabbè, proviamo Allora Sì, ok E ora stalliamo un pochino Non so se riuscire a stallare Però è bravo Perché io vedo l'unica finita E' un po' più difficile Perché comunque Il suo giacco è sempre di sua manovità E bisogna sempre immaginare Se non trovo la tradizione Adesso sento la nuova ventura Che non è un pochino Sto facendo il suo giro E un suo personaggio In piano Allora Non è un pochino Allora Non è un pochino E poi non è un pochino Allora Grazie a tutti. 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 Per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.